Ciao amici di Multiplayer.it, eccoci qui in questa summa di quello che è stato il 2020, non possiamo però anche non parlare di quello che sarà l'anno prossimo 21, questo 2021, che speriamo sia più positivo da un punto di vista storico, ma denso di uscite e di titoli importanti, come invece è stato già il 2020. Nella mia lista non c'è, ve lo dico subito, God of War 2, perché io non ci credo al fatto che God of War 2 arrivi nel 2021, ci sono altri titoli all'interno della lista di cui non sono convinto che arriveranno l'anno prossimo, però li ho voluti inserire lo stesso a God of War, non voglio nemmeno pensarci, non voglio crederci nemmeno io. Parlando della mia lista, parliamo subito di quel Resident Evil 8 di cui si sta parlando molto in questi giorni, perché purtroppo Capcom ha chiaramente delle problematiche da un punto di vista della sicurezza, in questo caso proprio della sicurezza, non tanto del chiacchiericcio, ma della sicurezza in sé per sé, ci sono chiaramente delle falle, sta uscendo praticamente tutto riguardo al Resident Evil 8, è un grandissimo peccato, per me è un grande male, soprattutto per chi per anni lavora su qualcosa, spende la propria professionalità su qualcosa e che poi la vede in qualche modo, non ho buttato le ortiche in questo modo, mi dispiace molto, sono molto vicino agli sviluppatori, però lo attendo perché per me Resident Evil 7 resta ad oggi, a generazione ormai conclusa, la più grossa sorpresa, appunto della generazione passata, quella che si è conclusa da qualche settimana, quindi lo aspetto con grande grande ardore, voglio crederci, anche se ancora non mi ha convinto alla grande, insomma mi sembra che ci sia parecchia confusione, però voglio crederci. Accanto a Resident Evil 8 ci inserisco un altro titolo che aspetto molto, che in qualche modo è anche vicino a Resident Evil, visto il papà, visto che parliamo di Shinji Mikami, che attendo molto, che non ha convinto in tutto e per tutto, perché non si è nemmeno ben capito di che cosa si sta trattando, pensavamo inizialmente fosse qualcosa, invece Ghostwire Tokyo ci è sembrato poi tutt'altro quando l'abbiamo rivisto quest'estate, non lo so nemmeno io, però mi intriga tantissimo e non posso non dare fiducia a una persona come Mikami, che sta tentando di fare qualcosa di evidentemente molto, molto strano, lo attendo al varco, sono pronto a giudicare la cosa, vedremo. Inoltre, credo sia impossibile non parlare di un altro titolo che, boh, ci credo poco per il 2021, però voglio sperarci che Final Fantasy XVI, sono un grande scottato del quindicesimo capitolo, per me è stato un po' una pietra tombale, dopo tutta la grande attesa, dopo tutti i rimaneggiamenti, voglio credere in questo sedicesimo capitolo perché quel pochissimo che si è visto mi ha riportato ai fasti di un tempo da un punto di vista estetico, da un punto di vista stilistico e mi è piaciuto veramente tanto questo, alcune chicche qua e là del trailer di presentazione erano molto interessanti e poi soprattutto, soprattutto il resto, il fatto che, nonostante ci abbia trollato più volte, più e più volte Yoshida in questi mesi e in questi anni, il fatto che lui e una parte del suo team siano ben integrate all'interno della produzione di Final Fantasy XVI, secondo me è un dettaglio da non sottovalutare, parliamo d'altronde dell'uomo che ha salvato in tutto e per tutto Final Fantasy XIV e anche buona parte il brand in questi ultimi anni. Chiudo anche qui con altri due titoli di cui sappiamo relativamente poco che dovrebbero essere entrambi 2021, io voglio sperarci, vedremo. Da una parte Hogwarts Legacy ci ho sempre creduto, per me quel trailer di due anni fa non poteva essere fake, doveva esistere per forza, ripeto ormai da due anni che secondo me il mondo, in qualche modo Hogwarts, il mondo Harry Potter, diciamo quell'immaginario lì è assolutamente maturo per poter avere un suo progetto core, hardcore, articolato come si deve, vediamo, speriamo, sarà un'impresa titanica secondo me riuscire a gestire il tutto al meglio per renderlo molto molto interessante, ci voglio sperare, mi piace molto il setting, vittoriano, la trovo una grande trovata. Ultimo, e chiudo con questo, restando a qualcosa nel quale voglio credere molto, ma che purtroppo più passa il tempo, più passano le settimane e i mesi e più c'è grossa paura dietro, è Vampire The Masquerade. Bloodlines 2. Grande paura, però grande attesa. Cioè secondo me chiunque ami il genere, chiunque ami questo settore in generale, non può non sperare in Bloodlines 2. Grande paura, perché quello che sta accadendo, il progetto forse troppo ambizioso e forse con poche possibilità da un punto di vista di budget e una serie di altre scelte, una serie di altre problematiche di sviluppo, gli allungamenti, le defezioni e quant'altro, grande paura. Però devo crederci ragazzi, non possono farne a meno. Queste sono le mie grandi attese per questo 2021. Attese strane, interessanti, però difficoltose. Ciao.